Nella mia ultima incarnazione, cerchio e seno attraverso NT 2 aprile 2023, entità. Fatto, sono onorato di essere tra voi. Tutti, noi siamo onorati. Entità, nella mia ultima incarnazione sono stato un maestro elementare e sono orgoglioso di aver inculcato nelle giovani menti sani principi morali. Molti alunni di allora sono qui con me e tutti vi ringraziano per la meravigliosa esperienza che li ha fatti sentire esseri senzienti. Elio, in che periodo storico sei vissuto? Entità, credo di ricordare che correva il XIX secolo, inizi 1900. Posso avere l'onore di sentire le vostre domande? Lilia, una cosa che mi farebbe piacere sapere. Qual era il rapporto con i tuoi superiori e che tipo di stimolo potevi dare ai tuoi alunni per crescere e per aumentare la conoscenza? Entità, mia cara e dolce collega docente, Io reputo indispensabile che il rapporto con i ragazzi sia più una forma di simbiosi che un gelido rapporto didattico. Lilia, ma io non ero gelida. Entità, no lo sento. Ma sento anche che all'epoca tu nutrivi tanto rancore verso la società del tuo tempo e ciò si riverberava sui tuoi alunni. Lilia, io sono consapevole che ho sempre avuto difficoltà a scegliere la mia coerenza con quello che i presidi, i ministeri, le circolari mi dettavano e ho sempre privilegiato comunque che il mio rapporto dovesse essere buono con gli alunni. Entità, vero. E ciò ti assolve da eventuali attuali partitismi. Lilia, mi sai spiegare perché attualmente ho ancora gli incubi di insegnante che sono ancora a scuola, che devo consegnare i registri, che devo fare le riunioni. Io mi sveglio stanca. Entità, penso che ciò derivi dalla tua forma mentis. Lilia, mi dici qual è la mia forma mentis, se puoi? Entità, credo che tu aneli tanto di vivere una realtà più a misura di essere umano, ma purtroppo ciò è quasi utopistico. Lilia, non mi è chiaro. Entità, quando sarai nella nostra dimensione, allora capirai. Lilia, come liberarmi di questi incubi? Entità, trapassando la migliore esistenza. Elio, sono rimasto affascinato dal fatto che tu sia un maestro e sia riuscito a trasmettere dei validi principi morali che poi hanno fruttificato, perché se poi i tuoi stessi alunni ti hanno raggiunto e stanno con te, significa che hai fatto un ottimo lavoro come maestro. Volevo sapere. Tu, quando sei trapassato, immaginavi tutto quello che avresti visto con i tuoi occhi, oppure per te è stata una grandissima sorpresa e forse anche una paura? Entità, devi sapere, e lo ribadisco senza tema di smentita, che io già da incarnato sapevo molte cose della dimensione in cui ora esisto. Elio, quindi significa che hai fatto degli studi oppure sei venuto a contatto con esperienze che ti hanno poi aiutato a trapassare? Entità, ho molto attinto da preziose letture di antichi maestri. Elio, so che in quel periodo c'erano delle letture di Kardec e altri. Entità, non letture spiritiste, ma di filosofi, certamente un sapere sapienziale. Elio, quindi tu sapevi che la vita sarebbe continuata? Entità, sì. Elio, quindi per te il trapasso è stato... Entità, anche voi, seppure in maniera diversa, siete dei fortunati. Vi devo lasciare tutti. Grazie.